Il canale Licupi è questo pacifico e trasparente rivolo che raccoglie acqua piovana per le campagne delle contrade Porvica, Moroni e Mosca in agro di Lizzano. Come mostrano queste immagini, lì dove confluisce lo scarico del depuratore di Lizzano, che serve anche fra Gagnano e San Marzano, il colore cambia completamente ed anche l'odore che le immagini non possono trasmettere, vi assicuriamo, diventa nauseabondo. Le immagini sono eloquenti, è lecito parlare di inquinamento. L'aria è invivibile, i terreni sono incoltivabili, purtroppo ci si coltiva, fanno ortaggi, si mettono sul mercato ortaggi, io non lo so che condizione di potabilità hanno questi ortaggi che si mettono, poi questo è un canale di acque piovane, non so con quale criterio il sindaco, l'amministrazione ha pensato bene di buttare le acque cosiddette, cosiddette depurate, loro dicono che si può anche bere, bene che vengono a berla. Il problema persiste da circa due anni, molti agricoltori sono stati costretti ad abbandonare i campi. Lavoro qua un'ora, due giorni, ho la mascherina, tutti i giorni, con la mascherina la stagione non si poteva stare, gli zanzani così erano, gli zanzani, a lavorare in un giorno, mi sentivo male con lo stomaco, sono andato a terra. Abbiamo fatto delle analisi a giugno, abbiamo fatto tutto a spese nostre e risultano contabatteriche a 1150, con le formi fecali 950, con le formi altri fecali presenti, strappato con occhio fecali presenti. Insomma è acqua di fogna? Precisamente, proprio così, acqua proprio nera. Poi ci siamo recati dal sindaco, l'abbiamo tenuto a corrente di quello che stava succedendo, il sindaco ha detto stiamo provvedendo, però da allora adesso non è successo ancora niente. Della vicenda si è interessato anche il consigliere regionale Patrizio Mazza, che ha chiesto al sindaco e alle istituzioni di far fare all'ARPA le opportune analisi e verificare tutte le autorizzazioni e responsabilità sul caso. L'inquinamento, secondo Mazza, non riguarda solo i terreni, ma anche i pozzi e le falde. Qui dove c'è questa specie di scarica a cielo aperto termina il suo corso, il canale Licupi, per poi finire alle nostre spalle il mare aperto. Si sospetta che nei liquami del depuratore finiscano anche scarichi degli oleifici della zona, facendo così aumentare le esondazioni che hanno distrutto parte delle coltivazioni. La scorsa estate, proprio in questo tratto di mare, l'ASL vietò la balneazione. Si ipotizzò che a rendere il mare giallo e verdognolo fossero state le alghe. Le nostre immagini testimoniano che invece il canale Licupi ha scaricato in acqua una melma maleodorante.